io sono lì ma è ancora troppo presto per bestemmiare non ha ancora fatto nulla quindi non puoi bestemmiare buon salve buon salve aspetta che devo rimettere l'audio perché l'avevo tolto ovviamente che mi sta facendo impazzire buon saldissimo a tuttissimo mi fa impazzire uguale un attimo e lo so io da cinque minuti che le dico vai vai eh no ragazzi era impresentabile se non si può non si può dovete capire anche che allora un attimo che devo abbassare dal mixer il volume del gioco perché voi non potete capire quanto mi sta quando mi si sta sparando nelle orecchie ok allora lori come stai come stai lori vino che si dice di bello no 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 se ci stai facendo caso le sto facendo fare sempre massimo dieci minuti massimo massimo no 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 adesso allora in maniera totalmente inaspettata e distruttiva per la mia vita un mio amico di qua praticamente ha proposto la tassiera nuova che tassiera meccanica non meccanica soprattutto anche se poi anche lì bravo se fa un rumore micidiale meccanica ed è terribile da sentire hai letto il messaggio telegram sì non lo so perché perché io non lo sento doppio frankie ciao allora andiamo comunque facciamo un attimo un recap andiamo a fare questa challenge no vabbè lo potete leggere anche nella guardate che cazzo combinato oggi guardate cosa figa che ho fatto oggi cioè osservate bene il mi sono superata e a membrana con sascia rompile il culo non è uno scontro non è uno scontro no 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 cosa consiste praticamente bravo spiega tu perché già me lo ho perso le regole della nazzlocke che poi vi spiegheremo però qualsiasi pokemon che andremo a catturare io ho tutto segnato qua sarà linkato mortalmente no non ho messo a possibilità quello del compagno quindi se io nel primo percorso incontro un pigi lo catturo e lei cattura o ratata quei due pokemon subiranno un destino comune cioè se il mio muore muore anche il suo e viceversa quindi sarà una bella cosa ovviamente potremmo riniziare molte molte più volte la run quando finiremo i pokemon a disposizione perché noi potremmo catturare solo il primo incontro in ogni percorso io c'ho ansia perché io non so neanche che cazzo fanno quando va piuttosto allenarsi in palestra dipende non fischio io in palestra ci vado 4 a settimana per te telegram è come l'orticaria e frankie se c'è ogni tanto mi affaccio e cerco di rispondere a tutto quello che mi arriva ma oggi ho avuto una giornata in cui il cellulare l'avrò visto tipo i social perché poi di messaggistica perché tutto dovuto fare dovuto registrare dovuto sistemare quando bs quant'è bel oggi ho lavorato tanto quindi chiedo venia e però l'ho visto il tuo messaggio ho detto poi mogli rispondo come gli rispondo allora le regole sono e le regole sono un po propria delle te le dico allora qualsiasi pokemon che sviene è considerato morto e deve essere rilasciato o conservate non giuro neanche a mia madre ho risposto oggi in un box pc con scritto morti chiamato sasha ti fa un po più di qua qua no all'altra grazie non mi fa spostare nulla il primo pokemon incontrato in ogni area e nessun altro se il primo pokemon incontrato sviene o fugge non ci sono seconde possibilità ma se lei lo cattura tipo se a me fugge o lo uccido il primo pokemon che incontro e lei lo cattura lei deve liberare anche quello che cattura perché ogni poco non catturato nel percorso è linkato allora raga voi state tranquilli perché queste regole le sentirete ripetere milioni di volte perché io dirò sasha ma devo fare questo sasha cosa devo fare ciao frank e amaterasu legge amaterasu no vabbè ce li ho ancora per nintendo ds io non ho mai i miei non mi hanno mai comprato ds io ho avuto cioè il 3d è quello normale mi sa è un altro che non so dove l'ho lasciato ciao frankino volume volume di chi o di cosa beh mi fa piacere farti compagnia mentre mangi perché tra poco vado a farmi la mia bellissima tazza di cereali che mi darà la forza mi dà il tempo di prendere la tazza di cereali sasha io che pokemon scelgo acqua ok puoi scegliere quello che vuoi acqua ciao pugni di sasha è il mio me lo alzo io ragazzi lascio a testare no niente sto scherzando non posso alzarmelo il mio al massimo e lei che deve alzarlo sei ancora in treno minchia sbatti veramente sbattissimo molto sbattissimo no non lo ha fatto il comando con tutte le regole non abbiamo avuto tempo per la prossima volta lo farà sol silva si è uguale a stato in uno cattore lupia e nell'altro poco no non è una sfida che ci siamo inventati noi c'è c'è da un po di tempo lei non ha mai giocato pokemon praticamente se non il rosso forse non mi ricordo qual è giocato e comunque non li ha giocati ma perché potevo fare il command con le regole si e cosa è successo allora ho detto gli facciamo la facciamo iniziare da argento e oro così si vede sia canto che yoto cioè prima yoto franky io avevo anche la psp sia rosa sia nera e anche la ps vita odri alzami non sono così forte sasha guarda come mangio la ciccina oh che calmo parla adesso voi mi sentite mi sentite più meglio avete visto apparire sicuramente oh ma che vuoi sono seriali proteici quindi io direi che possiamo iniziare ragazzi odri per l'amor del cielo non masticarmi nelle orecchie mi da troppo fastidio porco dio lo faccio sempre lo so mi da fastidio mi da fastidio tutto io ho startato ok io ti vedo con ritardo nessun consiglio no ok merda come si fa ok oh il professor rock io non ho mai giocato soul silver io ho giocato silvi sil l'argento cereali per cena no per il dessert minchia buono frank minchia le lanzane fritte panate sempre quando c'è il milan minchia regà e poi dovrei seguire un po' con un occhio il milan e con un occhio noi oggi non c'è solo il milan c'è il derby di milano io sono un ragazzo o una ragazza oh 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 cazzo vai io sono un ragazzo ma già sei là aspetta un attimo adesso ancora parla con questo sta parlando un botto questo si ma scrolla adesso vediamo se va giocato il pad sicuramente se è scollegato non va no non mi scambio di sesso sono una girl allora perché non mi fa scegliere oh ma ogni volta è un tasto diverso no c'è becca è già difficile aspettate ragazzi che devo prendere i pezzi di soccolato fondente ok posso scrivere con la tastiera no oh merda perché ha vissuto molti anni a Roma adesso vuoi? io aspetta che sto riuscendo a mettere il nome come ti sei chiamato tu? aspetta che si vede una merda l'autostream devo togliere, mettere e togliere ogni tanto dovremmo fare e mi scompare il girl ok lilby tanto poi richiamerò con nomi di merda ah un'altra regola dobbiamo rinominare tutti i pokemon che prendiamo il tizio che ride l'ha sentito tutto il vagone aspetta abbassa un po' gli alert vabbè l'ha detto chissà che guarda questo che devo fare? my name is ansia sì ansia are you ready? no veramente no però come faccio ad andare? bla 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 senta sì ciccio io qua sono un'esperta quindi se gentilmente neanche io vi lascio il cello a 3% sono a cornigliano metteci l'or che venici a guardare ogni tanto sente su che il suo pokemon preferito maestro yeah senti ma non mettiamo che cammina più veloce vero? io non so come si fa lo so io lo so io allora frame skip leva limit frame rate figurazioni? sì limit frame rate leva fatto come esco dalla porta di casa? e a quanto devo metterlo? io non ho messo mettiamolo a 4 la musica è deve fare bip ogni volta che pigi un tasto parrebbe apparentemente sì a me non va uguale perché a te va così veloce a me no? hai tolto limit frame rate? sì l'ho depuntato cioè non ho più la spunta guardate se dobbiamo rimetterlo perché non ci riesce vabbè allora mettiamo normale dai mi va sempre pianino ok ok anche io vado piano devo parlare con mia madre? sì ok questo ti posso toccare col mouse sì oh no cazzo dicono che la musica non si sente quasi meglio ragazzi perché vi spaccate il cazzo vi garantisco già io l'ho consigliato io vero? no cazzo no ho contratto un pokemon no anche un tizio che mi sta parlando che tasto è il menu? sasha questo lo devi fare prima config control control config arrivo subito mentre mi configuro i tasti perché è una persona poco seria poi solo io la streamer poco seria x a e b sono z vabbè z è x x non è a e x è s ah ok ma lei è arrivata dove è arrivata già? ah Michele già sono quella alla porta di casa io ok 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 allora se volete una musica ve l'alzo ragazzi ma a me già spaccati i coglioni quindi se proprio proprio volete iniziamo? vedi che c'è un tizio con i capelli rossi là? vabbè aspetta aspetta sto facendo un casino se ogni tanto io voglio guardare la tua streamer devo parlarci? no sì parlaci salo non è che dobbiamo fare l'orre no no e intanto io vado a prendere il pokemon no ma ha cacciato via oh dove si va a prendere il pokemon? nella casa che sto guardando dentro tizio con i capelli rossi oggi è venuto a mancare il mio cane Igor madonna che notizia orribile una concubitanza di eventi guarda e cercio tu proprio alla capacità e cercio grazie mille per il raid ci mancherebbe però Igor ma è terribile come notizia com'è successo? un po' rociccio cioè ti sono vicina perché so che si sta malissimo e ti sono vicinissima e che è una merda rara orco due oh ma quanti anni aveva? 15 era abbastanza avanti con l'età per carità però non è che aiuta a stare meglio fidati lo so bene e mi dispiace veramente tanto quasi quindi io devo scegliere totodile se voglio l'acqua e quello che voglio no non quello che voglio io io ho preso Cicorita non aveva parola con la T maiuscola all'intestino da molto tempo? cosa devo fare? devo andare dove sono le palle qua? no? devo parlare forse con il tizio di nuovo voglio dare un nome a Cicorita sì ricordati che devi nominare tutti i pokemon il mio Cicorita è maschio sì scusami ma io come obbligo sto pokemon qua non mi sono da niente clicca sulle ball ci sto cliccando non è vero ti giuro ho sbagliato tacciamo le palle vediamo cosa c'è dentro non voglio Cicorita tate dai sì dobbiamo rinominarlo sì io non so come chiamarlo ragazzi com'è che lo chiamo il mio Cicorita ehm yes dobbiamo per forza dargli il nick lo chiamo Puzza ma è un maschio Igor anche tu infatti lo sto chiamando Puzza insalto insalto insalata insalata sì chiamiamola insalata la povera Cicorita Puzza mi chiamo questa è una certa età sfortunatamente come anche succede a noi siccome oh oh guarda che carino ma Cicorita con i frame ti ha aumentato è un casino ma perché ti va veloce adesso a te solo nel menu guardate guardate va oddio mi sta parlando uno con gli occhiali mi ha dato le pozioni ma noi non possiamo usarle vero? sì sì possiamo non la facciamo proprio dura dura perché tu non hai mai giocato a un Pokémon e possiamo usare pozioni e tutto facciamo sempre che se ti muore un po' che muore un po' più blanda ok voi Sassia vedete tutto vero ditemi sempre se qualcosa vabbè no per me possiamo anche fare che se non mettiamo le pozioni a me va bene se no dobbiamo riniziarlo 20.000 volte grazie per la fiducia la musica è più alta di Sassia un c'è su ragazzi decidete ok alziamo Sassia da qua Sassia parla un attimo immagino è brutto ci sono passato tre volte due più una ci sono regole particolari adesso Sassia ve le ve le esplica tutte allora possiamo partiamo dal dal prepuzio allora possiamo come potremmo sbagliare solo il primo pokemon che incontriamo in ogni percorso se lo uccidiamo o scappa addio primo pokemon cioè addio pokemon per quel percorso devo parlare con mia madre per forza ve le do perché devi parlare con tua madre non lo so ah io sono ancora là iniziamo con questa e i pokemon che piattureremo nel nel percorso saranno linkati linkati cosa vuol dire che se lei muore muore anche a me e viceversa no 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 frank praticamente questo è un gioco del ds mi sa credo si si chiama pokemon earth gold soul silver e cioè io io ho earth gold lui c'ha soul silver e ma che cazzo vuole questa ok ma perché non mi fa andare via questa devo andare a salutare mia madre per forza infatti se siamo senza pokemon dobbiamo cominciare quando finiamo i pokemon ma tu sei mia madre velocità testo 3 come hai fatto a mettere velocità testo 3 su opzioni proprie opzioni del gioco schiaccia la s adesso è un po' notte è un po' notte quindi io mia mamma dov'è mia mamma? eh di andare in casa a parlarle ti dà sto cosa a stare un pipal ah il pokegear si si mamma mi ricordo come si fa si si infatti se ci muoiono tutti i pokemon hanno accerto o andiamo a prendere quelli del box oppure si rinizia il gioco è una challenge in fin dei punti ragazzi fatta con odri allora io adesso sto in casa sto uscendo io sto parlando un attimo con la mamma aspetta che mi dà poche gear io non so da che parte dove andare come si usasse poche gear non me lo son fatto spiegare ma ci hanno dato delle pokeball che non ho letto che ne so io come faccio a saperlo e la madame avete rotto i coglioni mi fate andare via madonna santa poi dici che uno rimane a casa a fare il mantenuto porca troia uno sta cercando andare via non più il cazzo tipo la kaizo si però è quella prima della kaizo praticamente vedete se ci hanno dato pokeball vai che gare vai oh root 29 me le devo segnare ste cose no non abbiamo pokeball quindi non possiamo prendere nulla ovviamente ah e come è successo che non abbiamo pokeball non ti ha parlato nessuno te no il professore ci ha dato il suo numero di telefono vabbè chissà ho in cura io già ho trovato un ostacolo ho sbagliato strada no non hai sbagliato strada no non devi andare verso vedi che hai sbagliato strada è andare tutto verso sinistra ah devi entrare nell'erba ok iniziamo vediamo se dobbiamo se dobbiamo restare oddio pure io sono sotto scontro devo fight oddio allora scratch o leer scratch o leer scratch o leer scratch o leer perché ce l'hai in inglese che ne so perché ce l'ho in inglese il mio pokemon è già morto no non è vero che cazzo è leer non lo so scusate stavo modificando le impostazioni ma perché mi hai in inglese perché sono sfigata io non so perché ce l'hai in inglese ti ho passato la cosa in italiano è quello che ha preso davide l'ha preso lui ha ucciso il mio primo pokemon yeay grazie siamo vivi allora adesso noi ti hanno detto la sasha si sente il ritorno della tua voce non lo so come mai sasha è mutata su disco non ne si è mutata la sua quindi dobbiamo andare di qua quando prendiamo le pokeball scusami mi sa che dobbiamo andare a prendere prima l'uovo nella prossima città tornare indietro ci daranno le pokeball ma io mi sono persa allora tu hai superato un bambino col cappello si che tra l'altro non ci sfida no ma io mi sono bloccata negli alberi però scusa bambino col cappello devo andare di qua mi sa e passare da quell'erba lì si bravissimo no 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 si l'irreo è un sguardo no 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 io non ho scontri io si ok sono in un hotel sembra un hotel questo salve dato da il stembo puccio ok vabbè che cos'è questo ragazzi root46 io mi trovo aspetta mi fermo perché tu eh io sto una fight eh la randomizer avremmo potuto farla però era troppo secondo me la faremo con un altro gioco si sente il tuo ritorno d'audio Sasha la leva aperta ma anche se Sasha avesse la leva aperta come fa a tornargli scusa al massimo sono io che posso avere ma io ho tutto mutato torna indietro è stata sbagliata io ho sbagliato immaginavo aspetta ho sbagliato sarà grazie grazie maestro è il maestro anche qui su pokemon è anche su pokemon e maestro quindi devo andare dritto per qua maestro io col cazzo che entro nell'erba aspetta un attimo aspetta aspetta che finisca ai miei sociali di picchiarsi ovviamente più lotti più fanno esperienza tipo a me appena salito in salata al 6 e io non ho avuto la stessa ultimo gioco giocato è stato pokemon marron qual è pokemon marron ah che bello era una mod di una di una rona no strano aspetta hai parlato con la signora diversamente magra poi è inutile che salviamo ok sia dove sono io ok io intanto devo guardare di là merda come sono aspetta come sono entrata nell'erba oddio l'altra guarda sto rompipalle oh è rotta il cazzo vai puzzo fight a puzzo non posso scappare vero devo fightare per forza no però se non scappi cosa tanto sono in fight anch'io se non scappi lui ha un colpo gratis su di te se scappi scaccialo bravissima che stiamo fightando ovviamente non valgono perchè non abbiamo ancora le pokemon ragazzi quindi possiamo curarli adesso perchè dovresti curare le pokemon ma non è beh l'hanno picchiato il mio pokemon un hp che tu coglioni io ho metà vita mi ha abbassato la defense mi ha abbassato l'attacco ma sei morto uguale ciao papi ciao dragonero mi sta vibrando fortissimo tutto ok allora porca troia ok allora è impossibile ho imparato watergun adesso devo scendere di qua stringi la curva se no qua ci pigliano nooo un altro ma sempre sono picco coglioni ma cos'è cos'è debole sto coso tecnicamente elettro bene non è non è roba mia come boh cioè raga aiutatemi usiamo watergun vediamo che succede ma quando gli abbasso la difesa vale per solo per quel turno devo farlo ogni volta vale per sempre questo è un coglione a posto per fortuna non gioco pokemon dal 15-18 ah per sempre ok per tutta la fight grande allora devo rifarlo ok il mio puzzo è arrivato a livello 6 brava vuoi uscire di qua no sono stata fregata merda ma non puoi cambiare la lingua dal menu odri eh non credo no credo che sia la roma no no è proprio quella che ho io che è in inglese proprio la prossima volta vedo di prendere quella in italiano colui che si è occupato del setup non si è accorto che mi ha messo quella in inglese senti allora 8-8 hai rotto i coglioni basta sono solo 8-8 in questa post l'ultimo serie che ho giocato fu pokemon platino più lo fai scendere potrebbe avere senso farlo più volte perché non gli date il nome del follower della chat è vero bella idea bella idea i prossimi i prossimi sì ma povero Puzzo mi ha abbassato l'attacco di Puzzo sì io tutto è un figlio di Puzzo ma scusami come ricarico gli attacchi infatti da lei in inglese da me in italiano ci sta come carichi gli attacchi in che senso parti dal presupposto che io non so che vuoi come carichi gli attacchi in che senso no vedo che c'è un numerino a fianco agli attacchi che gli faccio riposandoti al ma noi ci possiamo riposarsi sì sì al poche tanto ragà comunque partite il presupposto che io non avrei saputo ma con i nomi in italiano dei colpi quindi tranquilli ok siamo usciti da sta cazzo di erba allora Sasha io ho davanti a me un cosa che mi dice no sto passando un campo di margherite sono a Cherry Grove City e un vecchio di merda mi sta parlando devi farlo parlare io non mi ricordo dove si va a prenderlo ragazzi ma devo seguire il vecchio? no no è da quando è uscito che non ci gioco praticamente Sasha il vecchio mi ha detto che devo seguirlo seguilo seguilo lo sta facendo in automatico ah mi sta spiegando alla prossima città che fa alla prossima città? ah vero che è nord ok ma i save state com'è che si fanno giusto per poi la prossima volta non doverlo riniziare da zero perché ci siano dimenticati di salvare non lo so come si fanno qua aspetta non toccare niente prima che lo ravi ok si vabbè vecchio di merda ma chi t'ha chiesto niente ma che è? lavorava a pro loco questo oh ha avuto le running shoes f seguito da un numero eh però eh forse f1 però non so quali sono i tasti touch the sprint button on the touch screen to sprint no quello è per è per non per salvarlo vabbè possiamo andare a prendere le pokeball? al pokeball al pokemon center suppongo io sono entrata al pokemon center non posso parlare con la tizia perché dobbiamo andare a nord sei andata al poke center? sì devi parlare con la tizia con i capelli rosa Audrey eh quelle le conosco ho sbagliato se non lo so mi credo Igor posso ristorare i pokemon? sì sì vai vai devi i pokemon se vuoi vai anche a prenderti una pozione che non si sa mai e chi me le dà le pokeball scusami adesso nessuno ma che merda questo mondo allora se io faccio pokemon ho puzzo qui ti amo non ci ho capito un cazzo ok ma io ho salvato ma mi sa che questo non c'entra un cazzo questo immaginate ho bloccato tutto per fare sta cosa probabilissimo oh ci ha dato la mappa finalmente sa potrei aver fatto un casino no ce l'ho fatta niente ho sceso niente Sasha non ho sceso niente niente ho salvato e allora come li hai fatto a salvare? eh sono andata sotto c'è safe ah ok dai dai mica quanto si ma io dove devo andare sa no ma questo pokemon qua col coso blu non ci deve entrare sono entrata si puoi prendere una pozione ma chi sei in culo hai pozione oh ti per favore non voglio di risaltarlo mille volte adesso andiamo a nord oddio sto vecchio de merda come si fa a vedere la mappa ma non dovete darvi il prof quercia alle pokeball ma non lo so che non ce le date mi sa che dobbiamo andare a prendere il primo luogo portaglielo poi ci dà le pokeball cosa qua ancora questo mamma mia ragazzo che stress psicofisico vai puzzo vai puzzo no puzzo non ti spaventare puzzo non ti spaventare cosa niente ho frittato sei morto ho frittato io non ho fritto mai è un accollo qui ho manco il nemesis è bravo minchia c'è sto vecchio nemesis io non ho fritto mai ma che vita di merda ma quanto stai livellando fammi capire dai su muori ma non mi piace dire questa cosa dai ciao hut hut per fortuna che non potevamo prendere sto hut hut che mi sta sul calzo sì frankie sono sette sono livello sette yeee come sei già a livello sette hai fatto meno scontri di me perché sono più brava ho trovato una palla una pozione ho trovato vedi non serviva a comprarle l'ho trovata ora passiamo dove non c'è l'erba ecco allora sono davanti a un cartello che mi dice andando dritto vado alla route andando giù vado a south cherry groove ma lo sai che ti voglio bene anch'io frankie anch'io tesorino bello frankie sai io devo fare pipì tanto te sei ancora a combattere perché sali di cacca la gente cioè no io sono quasi fuori vai al cartello non dovremmo essere arrivati giusto dove? dove potete arrivare? ah per le pokémon è vero che c'era sta cosa qua comunque dai prossimi pokémon gli daremo i vostri nomi ragazzi così quando moriranno sarà un casino mi fa capermi tu vuoi essere un ombreon? e no come cazzo facciamo avere un ombreon ragazzo? si è già capito come ma pianto che giocheremo sempre di sera perché di mattina non giocheremo mai visto che giochiamo alle 8 quando muore un follo giusto? giusto sante su che è un giusto allora io sono al cartello tu dove cazzo sei? ok vieni la casa sopra e parla col tizio ok il tizio è nella casa? suppongo di sì ok oddio un altro ma sono tutti anziani qua? no non voglio niente non mi dia nulla mia mamma ha detto che non devo prendere cose dagli sconosciuti e metterle in bocca mi ha dato una cosa non mi interessa ma secondo te ok ho premuto io per sbaglio ok ok non si può andare di là da qua di qua nei giochi si bussa Igor dove devo andare Sasha? d'accordo quindi devo andare nell'erba? nell'erba? c'è un oggetto lì c'è un oggetto qui un rattata un rattata merda ma sì anch'io sono contro un rattata vai puzzo distruggi la puzza ah ok bussano poi sfondano le porte beh sono educati gli zombie adesso io sono educati che pokemon mi metti a me? eh vediamo uno carino piccolino la madonna mi sta uccidendo il pokemon no oh 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 usa watergun usa watergun yeeeh perché piccolino? perché sei piccolo piccolo di età non magari sei un metro e due metri non so però mister pokemon house dobbiamo andare? vai su vai a nord ti ho detto a nord da destra però da destra che non puoi andare a sinistra oh no sono andata a sinistra vabbè uguale dovrebbe essere uguale vabbè ti ho di nuovo su tutto di merda ma il fatto che i pokemon abbia un sesso vabbè si giovane il fatto che i pokemon abbia un sesso influisce in qualche modo? no sul no però influisce soltanto che puoi farli accoppiare diventa hot questo pokemon dai muori subito però dai ma la differenza di livello non vale un cazzo in questo gioco cambiano solo l'aspetto io sapevo che sì non tutti nidorina e nido nidorina nido nido nini nina cambiavo l'aspetto uccidilo uccidilo ci ha dato anche il pokédex come si fa a fare il pokédex cos'è il pokédex ti ha dato il pokédex se arrivi dove devi arrivare livello 8 yay ce ne sto livellando come una stronza praticamente fa due lotte ok questa è casa del tizio suppongo battuta se si sta tra 3 2 2 1 io ho trovato il professore hawk pure te si si ho già parlato ho già fatto quello che devo fare lui sta dove andare io non so cosa che cazzo devo girarmi oh il mystery egg devo darlo a hawk no è lui che te lo deve dare a te eh quindi perché ci devo fa lo devi riportare al primo al professor elma io mi ricordo come si torna devi andare sempre a sud e quando arrivi alla città vai a est cioè a a destra ok non devo capire per essere sicuro ok ma mi ha dato il po' che va bene blablabla sai che sto rischiando di morire posso dare una pozione al mio pokemonina adesso puoi dargliela anche fuori lotto ma se non sbaglio lui dovrebbe curarti si vabbè devo parlare col vecchio di nuovo no sono cool torna a sud mi stanno chiamando sul poche gear chi è è il professor elma arrivo si si no non chiamare mia madre no no ho chiamato mia madre per sbaglio ok via ciao la teniamoci stretti qui così no ci ha preso uguale ratta tapir ma guarda io ci ho puzzo che adesso c'ha rage che cazzo fa rage mentre aveva si no un attacco mi ha defensato mi ha fallato la defense adesso cazzo tuoi ma ma non ti toglie nemmeno tanto no fate cazzo tuoi si è fatto male il mio puzzo tieni sempre la sinistra così arriviamo prima ma hai detto da andare a destra capito che vuol dire no quando scendi tieni la sinistra così passi attraverso vabbè non passi attraverso tutta l'erba come faccio a tenere la sinistra c'è tutta elba qua io mi sa che tra dieci minuti quitto ma quitto è forte ma non forte è fortissimo la smetti? sono le 21 scusate ma io devo controllare una cosa scusatemi che ha fatto il suo stronzo? come si è permesso questo? si sono depilate sì vabbè allora io devo tenere la sinistra ma se siamo venuti da destra perché ho dovuto tenere la sinistra? ragazzi non so se sto andando giusta boh allora sono tornata a Sherry Grove City ora devo tornare verso la città ma perché tu stai scontrando un tizio? anch'io mi prego ditemi che mi manda contro il pokemon contro cui io sono più forte no al tuo opposto avrà l'erba lui se no a Cicorita a Cicorita nice bene ottimo siamo morti e Lear vabbè siamo subito alla difesa povera Cicorita è tanto carino Cicorita tutto figlio di puttana ho crittato brava come ho crittato anche lui? no no scherzo yeah due critical hit ed è morto Cicorita nice ok due gritti di fila yes e ho fatto anche il livello 9 yeah la madonna sono troppo forte mi hai dato pure i soldi mi hai dato grazie allora vai a ricurarti subito al volo e qui devo devo tornare a pokemon center madonna stai zitto stai rompendo le palle ma chi ti conosce puzzo voglio dare un morso nel culo a questo adesso stiamo a curare non si era curata by the way no ma stai zizio ah prima non si era curata? no Sasha io mi concentro quando combatto quindi se mi dici qualcosa la devi dire molto a voce alta anche se mi dispero devo dirlo a voce alta? sì anche allora adesso devo andare tutto a destra tutto a destra stando un po' in basso però così metti tutta l'erba e tutto è arrivata una tizia a parlarmi? signora però lei non mi deve rompere i coglioni che è il tutorial la tizia tra l'altro ah ma ha detto che posso saltare verso il basso ma non posso saltare verso l'alto? sì oh beh questa erba la devo fare per forza merda no eh sì però non abbiamo beccato scontri quindi il problema non sussista io sì puoi parlare col professor Elmer sì Sasha dille se scusi signora dille sempre tutto a voce alta il rivale prenderà sempre il pokemon del tipo col vantaggio sul tuo ma che merda è? ma è cheating questo qua no palesemente questo si è arrabbiato per qualcosa ce l'ha anche con le persone con i capelli rossi quindi mi sembra anche un po' una cosa che fa bene che sono figlia dello dimonio eh come lo chiamiamo questo qua? il nome di questo? puoi dare il nome che vuoi tu? aspetta lo chiameremo Helmut no dai lo chiamo Helmut come Helmut Alzheimer perché ha capito la citazione beh beh sì sì si chiamerà Helmut ma io ho mandato la polizia cioè ho fatto la spia minchia raga l'ho mandato carcerato come si dice sei troppo stanco per capire cose stai lavorando come un pazzo sì 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 dammi le pokeball dai che qua la situazione si fa ma adesso dobbiamo tornare verso Sherry Groove City? leggi quello che ti dice non ho letto gli abbiamo dato l'uovo eh ricordo ti fa la spia non è figlio di Maria infatti infatti mia mamma si chiama Lela mia mamma Antonella siamo a posto cosa cosa è successo? io non seguo i dialoghi non ho le pokeball non me la date perché? mi sa che ce le dà il suo aiutante devo andare a parlare con Cazzetto qui Cazzetto? no ma scusate ragazzi chi è che ce le dà le pokeball? non mi ricordo scusaci da tu le pokeball no stante su che ti ricordo chi ci dà le pokeball devo andare a parlare con mia madre sto vedendo che te sto dai sordi mamma sgancio agli sordi ma io cambio gli dico che non no non li vuoi soldi no perché tanto è meglio che li abbiamo tutti disponibili cazzo gli ho detto di sì io e parla le digli di no withdraw? il primo tutorial della cattura ma no mamma io voglio spendere tutti in pokemon e mignotte ma senza pokemon no ma ho sbagliato niente ti ho parlato troppe volte ok mi sembra devi fare prima il tutorial della cattura effettivamente ah è vero ce lo farei ok da che parte devo andare? eh no immagino sarei morto sarei stanchissimo ok guardate qua dovevo che si deve fare 7-8 su sabita è colto anche mentalmente allora sì ci sta ci sta tantissimo ah questo ci fa vedere come si prendono i pokemon ah lo fa lui bravo ah no devo farlo io ok ma fa tutto lui fa tutto lui c'ha meryl non è un tuo pokemon meryl cazzo ne so dobbiamo indebolirli prima di pokemonarli sì c'è pokeballarli sì tanto il tutorial ti dice lei cosa fare c'è la manina che ti indica cosa fare sì ma c'è possibilità che il bastardo non si chiuda nella pokeball qua no è il tutorial no in generale sì allora sì vabbè questo lo sapevo fare pure io c'ha adesso dobbiamo farlo perché adesso il primo pokemon che incontriamo dobbiamo catturarlo merda cosa cosa tutta di merda si trovano soltanto tut qua oddio ma ne ho giocato un pokemon sì vabbè però allora non devo ucciderlo no assolutamente no hai catturato sto coso? io sì adesso dobbiamo dargli un nome lo chiameremo lo chiameremo no che cazzo sto come si cancella ma questo è brutto non voglio dargli un nome vostro dai ma è vero Sasha non si sente più Sasha 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 allora innanzitutto non sono un cane adesso si sente allora gli devo dare un nome adesso si sente fortissimo sapevo io ho caccato prima lui con la microfono nome però gli voglio io lo chiamerei palla al piede pure troppo alto infatti adesso è uscito altissimo Sasha sapevo io lo chiamiamo palla lo chiamiamo palla il mio lo chiamiamo palla non voglio dare il nome di qualcuno anche il tuo brava si chiama palla come mi chiamava mio padre quando ero bambino ciao Mosca papà mi chiamava palla ok Sasha l'ho riportato a un volume normale ciao Mosca allora abbiamo catturato questo qua non possiamo più catturare nessun altro pokemon se dobbiamo tenere questo cesso si ok quindi questa è la root che cazzo di root è questa 29 se non sbaglio si allora quindi abbiamo hoot hoot scrivitelo perché poi dopo se ti muore hoot hoot sono collegati i tuoi preferiti si sono sono collegati quindi se il mio muore muore anche il tuo se io lo butto in un cesso lo butto in un cesso anche tu in box devo metterlo in box anch'io è primo che gioca no è primo che gioca no però da che parte devo andare raga a sinistra però poi puoi sfidare altri pokemon per fare qualche livello capito no ok quello si vabbè bimbo stai calmo non devo andare di no devo andare di là ok devo passare per l'erba non è che devo allora mosca gli ho fatto fare questo perché poi si può andare anche accanto parti da ioto e poi puoi andare accanto per quello merda ho sbagliato strada avete parlato arabo questo è il livello 2 su hut hut dai scracciola uccidilo vai fai cacare puzzo fai cacare ma dimmi se muore palla muore anche il tuo palla muore la mia franca perché è chiamata franca così è il nome di merda nooo mi dissocio oh c'è l'oggetto lì ma io sto andando a caso eh sascio ha sbagliato strada vai a prendere l'oggetto vai a prendere l'oggetto sì ma dopo devo tornare adesso è meglio allenarli ma io non alleno palla sì bisognerebbe allenare anche palla tecnicamente come faccio ad allenare palla? lo metti prima nella squadra come? vabbè dal menù però e se palla mi muore? muore anche il mio merda cosa potrebbe essere un problema? un tuo problema però solo tu ti trovi ma qual condivido esperienza si trova o? ok allora io ho sbagliato allora aspetta devo prova dal pokédex devo mettere prima forse ho sbagliato a fargli fare questa perché se no c'è l'esperienza condivisa come faccio a mettere palla come prima? vai pokemon a posto fatto noi alleniamo sta palla qua il problema è un altro odri ah non farlo morire c'è anch'io uguale adesso le pretese prima cura prima cura odri prima di allenare palla palla è a piena vita l'hai presa a piena vita? ah perché mi oddio non lo sapevo cambia non fare fuga cambia pokemon e poi fai fuga come faccio? dagli lui ok no ma anche cosa è in giallo? allora quando io li catturo li devo anche curare non si curano da soli no li devi curare al centro pokemon devi arrivarci al centro pokemon ma io c'ho la pozione non gliela posso dare ah si si volendo puoi usare le pozioni ma quelle serviranno ma gliela do a palla ale adesso rimetto palla come primo pokemon e già come poco pokemon ah quindi quando le catturo non no minchia che tu voglio allora sono nel villaggetto ok questo devo fare cosa devo fare? oh guarda che stronzo che non mi dice cosa devo fare bisogna allenare un po' i pokemon tecnicamente bisogna andare non a questa città che non c'è la palestra ma alla prossima ancora per per battere la prima palestra così tu pokemon che ci avemo ci rito non faccia? tecnicamente se tutto va bene dovremmo averne tre no non possiamo averne tre sì perché c'è un altro percorso adesso vai palla fai ta fai growl è stronzo allora il growl che è ruggito abbassa l'attacco avversario eh lo so ma lui mi sta abbassando le difese un botto io ti abbasso l'attacco facciamo così porco cane frankie frankie ero concentrata io so già come chiamare il primo rata che prendo vero frankie ma mi ha fatto malissimo eh no ma dobbiamo entrare negli stessi percorsi mi sa se lo stronzo mi dicesse dove va perché io non so dove sto andando è formato indietro ad allenare il pokemon te l'ho detto sei tu che non ascolti madonna palla però mi sa tutti gli attacchi questo è un incompetente è un incompetente mio pokemon anche in 4 c'è il percorso dove si entra per sbaglio all'inizio volendo o si volendo o si quello che va in alto dove sono entrata io per sbaglio prima mi sa hut hut verso hut hut vai palla grola si entra però nume nume ricordo nume ma perché c'è il mio pokemon fa schifo non è che fa schifo un altro tour fa schifo va per morire sa ti sopra dà una brutta notizia la metà strada a nord sascia sopra dà una bruttissima notizia oltre di per favore cristo cambialo switcha e metti l'altro distruggila distruggila vendetta bravo puzza dobbiamo andare a metà strada allora allora aspettate un attimo ragazzi così non ce la caviamo non c'è qualche qualcosa per dargli l'ex pole se sasha mi farebbe mi facessi mi farebbe facesse morire o no il punto è che io vorrei andare più veloce ma lui non funziona il fatto di velocizzare tutto non so perché lo posso riprovare ma ci provo anch'io cioè io ci provo ci riesco palla è arrivata a livello 4 grande palla anche franca frame skip se lo metto a 8 no le va sempre cammina sempre normale così va più veloce ma perché palla non la curo si ma è terribile però sentire la musica così cioè amici di 8 ah era qua è vero allora ciao Samu allora le regole praticamente abbiamo messo le regole di una Nuzlocke dentro una Soul Link quindi lei promettiamo che l'unico Pokémon che ha giocato è stato vent'anni fa cinque anni fa sì quindi è passato un po' di tempo non le sa bene comunque ogni ah ok è presente quindi sai benissimo com'è il problema è che adesso bisogna vedere cosa cosa si riuscirà a fare con lei perché mi ero dimenticato che in sto Pokémon non c'è condivido esperienza bisogna allenare i Pokémon singolarmente quella è una gran rottura di cazzo è veramente una gran rottura di cazzo yay io la prima volta che gioca uno di questi Pokémon ragazzi ho giocato sulla spada e scudo ma vi capi allora Audrey ah tu vai ecco è presente dove dove vi trovate un modo per andare a nord se guardi la mia live la mia live la mia cosa lo vedi sì eh ma quelle caramelle rare sarebbe una cosa un po' troppo p-drop aspetta devo andare dalla tizia da quella brava da quella dalla ragazza ragazzo un po' rosso ma no ma aspetta ma io ero la città già eh no eh sì ero già la città no devi andare dove c'è quel ragazzo la signora sì e quindi che devo fare qua? quello è un percorso il problema è un altro che adesso andiamo nel percorso e prendiamo un attimo la mappa perché in questo percorso più a nord ci sono pokemon più forti che potrebbero servirci dopo adesso valutiamo un attimo tradotto perché da sto percorso non si può andare più a nord ma io quindi devo andare devo passare dall'hotel a me non si è curata il genio ero città oh aspetta 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 stai fermo lì non ti muovere vado a curarmi merda ce la fa a palla secondo voi? sì no aspetta ma mi sta tutti gli attacchi sto pokemon di merda adesso vado io a valutare una cosa un po' con di merda questo è il percorso 46 quindi tecnicamente noi qua potremmo fare una cattura però la mappa dov'è che era qua in borsa quindi devo andare all'hotel dove c'è il ragazzino diversamente non è un hotel è un passaggio tra le esatto si merda poche gear dici? la vai palla si hai ragione minchia palla fai schifo però mamma mia cioè mannaggia chi ti ha cagato o ci incrociamo il percorso no mi sa che sto qua lo conta come ma chi era lo no ma c'è un po' che ma più stronzo della storia eh facciamo così io da sto passaggio ce devo andare o non ce devo andare perché poi quello sopra è il percorso 45 easy dai catturiamo un pokemon anche qua ma dove devo andare? come dove devi andare? l'ho detto l'ha appena spiegato ah ok ciao cato ciao cato e tu? allora quindi devo andare nell'erba qui siamo sicuri? si ok vado con puzzo o vado con palla? con quello che vuoi andiamo con puzzo regà perché palla non mi fa fiducia ok via qua posso catturarlo che root è questa qua? è 46 46 ok io ho trovato un ratata bene buon per te io ho trovato un ciao dude ragazzi ditemi che se gli faccio acqua ma gli devo ma se uso acqua è troppo forte è a livello 3 vedi tu sei acqua lui è debole due pera d'acqua ok lo scratcho un po' poi uso la bag pokeball go ancora c'è ma yay ho preso geode tu hai schermizzato cioè faceva acqua e lo ammazzava io non l'ho catturato sto rattato di merda quindi non c'è il pokemon per questa root non ce l'ho neanche tu non ce l'ho io cogliona merda no l'ho preso geode dai devo rilasciarlo adesso è uscito dalla ball dai catturalo mi rompe i coglioni c'è cazzo si infatti esplode male c'è acqua su roccia allora lui lo chiamiamo maestro perché è forzuto perché è stato salvato dal maestro pranky chi è che vuole essere rattato dai adesso che devo fare devo uscire da questa zona vero si puoi andarti ok quindi il mio geodude è collegato al tuo rattata si guarda non fa succedere niente a quel rattata aspetta flippato franky ma dove cazzo deve andare sasha com'è che si chiama il percorso 46 io non so come chiamarlo ragazzi eh Nicola che cazzo ne so Ciro colacca Kiro Leon Kiro Leon Kiro no ti prego allora ora quindi io però ho preso un rattata di merda tu hai dai io però adesso dove devo andare ragazzi devo tornare in città tipo alleniamo il piccolo geodude ma da come saltano ah devo curarlo però sto bastardo ma io ho finito le pozioni praticamente i miei pokemon morono sempre nomi troppo family friend eh aspetta facci un attimo e possiamo fare il peggio mi è rimasta mi è rimasta franca con 3 HP ti dico solo quello franca significa che devo mandare via palla? con 3 HP ti ho detto non è morta ah pensavo ci sei ancora faiitando che cazzo lo sai? no 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 malta che cazzo vuoi? allora io torno in città quindi? si torno in città ma che fare? andiamo a curare i pokemon se no poi dite che non curo i pokemon? adesso c'ho becca che è successo? ehm adesso devo andare verso su? a nord? hai curato i pokemon? si io ho curato i pokemon sentite mi ha dato a cazzo noi adesso dovremmo andare a battere la prima palestra tecnicamente il problema è un altro ah è che siamo un po' scarsini per la prima palestra io ti consiglio di andare a catturare di andare a comprare almeno 4 o 5 pokeball dove si compro le pokeball scusa? la casetta quella blu si riesco ad entrare cattura persa? no 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 fatta fatta tutta fatta tutta no 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 preso preso il ball? no che cazzo vuole questo? quanto ne posso comprare? quanti soldi ho? allora il prossimo percorso possiamo fare la cattura Odri qual è il prossimo percorso? per te è un O-Tooth o un Geo-Tooth che non dovrebbe sbaunare lì passi al prossimo pokemon si ma qual è il prossimo percorso? per lo nord perché tanto se andiamo a ovest non c'è nulla perché non abbiamo né un amo né serro qual è il prossimo percorso? ah no ho ammazzato un rattata ero già sul nuovo percorso sei serio Odri? si non lo sapevo ti ho detto che ogni percorso è nuovo ma sei seria? pensavo che questo facesse parte dell'altro oh no oh no 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 non fa niente parte dell'altro se entri in un nuovo da una città se sei uscita da un'altra parte potrà mai essere lo stesso percorso Cristo porco dai Odri per favore oh oh ti giuro lo so che l'ho ammazzato mo questo che percorso è? che route è? a me servono i numeri vedi perché vi devi seguire non puoi andare per cazzi tuoi che route è questa adesso? quindi 30 non abbiamo pokemon no pokemon rip rt66 e quindi adesso dobbiamo andare dove? a nord Odri a nord ma tanto finché non ti viene fuori un percorso diverso dal 30 puoi uccidere appena ti viene fuori un percorso diverso dal 30 non puoi assolutamente uccidere un tizio mi sta sfidando penso sì perché vedi che a te ti corre più veloce vabbè perché posso cambiare pokemon se mettiamo puzzo vai puzzo il best della mia scuderia ciao ma omega sto già facendo bestembiare Sasha fortissimo santa madonna 2 a 0 stiamo prendendo il pipo perché non sei qua a fermarmi quando uccido i pokemon sulla route e non mi sono come 2 a 0? perché io devo dare un numero a questo? ma sì dai tanto chi ti conosce posso? puoi di ma non c'è un modo per oh gesù per farli livellare insieme in sto pokemon ma anche un cheat qualcosa perché sennò non ce la capiamo più cosa è questo? è inutile usare mossa terra su un pg vero? sì ok a posto yeah puzzo livello 10 grande puzzo mi avete fido di rompermi i coglioni? grazie no è vero com'è che si andava? sapete che non mi ricordo come si andava dio sti pokemon ma non si andava a passare morono che niente è com'era? trainer e rips no non voglio combattere contro quei ma io sto sfidando solo gente è possibile? non vuol dire sfide fisso? sì a me è uscito il geodo da lui è uscito rata assizia del tizio delle bacche della casa c'è tutto non è indietro aspettate no tu stai non è il processo giusto ah ok allora devo sfidarmi con questa sicuro mica carcazzo no perché dopo non si poteva andare il mio processo questo mica carcazzo sì oddio ma tutti ci li dobbiamo fa caterpie eee cazzo a passo morto ciao caterpie ma sì siamo puzzo ma puzzo non è curato oh merda eh infatti infatti da qui a nord ok sono finiti? si rompi coi qua c'è qualcosa c'è qualcosa qui? no un alberello root 31 non devo uccidere devo catturare brava ok vedi? sbagliando si impara caramelle rare per 999 no micchia puglino c'ho capito un cazzo che non ti lascia la scelta di cambiare pokemon quando ah dice Samu non ti lascia la scelta di cambiare pokemon quando l'avversario gioca un nuovo pokemon ah in quel senso io non lo so perché lei non potremmo così è più difficile cioè spiegate anche a me che non ho capito un cazzo sto per vabbè io vado a catturare quello che troverò qui trovo un cazzo potremmo potremmo lascio cazzo ecco mi è uscito un spinarack però l'ho al volo ho capito ma cosa è debole questo? quale è ottero quindi volante quindi se con geodude faccio tackle non dovrei ucciderlo option devo mettere stile lotta fisso ok preso dopo io lo faccio mettere a te lei l'hai preso? si che è collegato al tuo non si sa perché ancora non ci arrivi allora cosa devo fare? ditemi mentre lui a lui lo chiamiamo Pugli no Pugli è più per qualcosa di pelosone lo chiamiamo Odri sei buona ma Sascha è di un'altra categoria Amaterasu grazie mille ma vabbè lo so Sascha è bellissima si minchio turno minchio ok e cosa devo fare? in option ah si 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 lo so lo so battle style shift set che devo mettere? 8 io lo chiamerei no ce le stiamo ce le stiamo segnando ce le stiamo segnando poi ce le stiamo segnando ce le stiamo segnando non sembra ma siamo più furbi di quel che sembra 8 io lo chiamerei 7 ok metto 7 perfetto 7 8 7 8 no vabbè sei triste allora da qui in poi io devo uccidere solamente divento una macchina mortale da guerra da guerra da guerra ok cazzo vuoi? levati levati devo entrare nella caverna qui c'è un oggetto oh beh grazie perché stava un po' scherzo e via adesso io prenderò un pokemon di merda ratata ma già no lì c'è un oggetto non mi cacare quindi io direi di andare su qualcosa mi ha challengeato uno il suo caterpie è anche particolarmente forte yeee già tu da livello 6 maestro ancora il caterpie ma c'è adesso il caterpie qua com'è nella caverna Audrey Audrey porco carino non sono non sono ragazzi non fategli venire l'ansia non sono entrata nella caverna continuiamo con con maestro ma si dai ma si mi aveva detto santi suoi che c'era un modo per ma maestro questo c'è solo pokemon di merda non so cosa fare uccidiero bravo basta cambiare dal pc ciao si è fatto fare la sasha ma questa è una cosa che mi sa che aveva detto pure santi su che era non ci voglio parlare con te ma perché la gente vende il numero di una bambina cioè ragazzi si va in galera cioè pokemon io non ho trovato il pokemon qua ragazzi ambroia controllatelo beh no no questo qua era ancora il percorso 30 quindi io non potevo prendere niente è qua che posso prendere qualcosa il 31 puoi prendere sì ma io sono più avanti di te ti muovi 5 pokemon in 7 di merda sì infatti c'è una cosa un altro rattata niente non lo puoi prendere perché già ce l'hai vabbè io intanto che faccio guardo eh vabbè adesso non posso promettere niente allora c'è un rattata livello 4 vai geodoodoo cd no non mi fa un po' cacare geodoodoo minchia ma sono tutti sminchiati i miei pokemon oh poi ho chiamato minchia ma era femmina vabbè minchia quindi questo non ricordo se era una minchia mi sta per morire minchia aspetta un attimo ho rischiato fortissimo ho rischiato fortissimo mi stava morendo minchio è vero la lotta è scura non si può non si può cazzare la randa curati e vai in grotta odri grotta devo tornare indietro ma non ci serve flash per andare in grotta ma non io devo tornare indietro raga no vai maestro uccidi come solo tu sai fare maestro fa che ca ok via 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 palla fa cadare palla si si posso prendere ancora il primo che non ho posso prendere ancora quello nel 31 lui ancora deve prenderlo la grotta che era qui la grotta si dai ti aspetto davanti alla grotta io nella grotta non posso prendere nessuno no no si puoi prendere qualcuno nella grotta il primo che conta come vado al centro pokemon sai cosa vuol dire adesso andare al centro pokemon che non so come ci arriva maestro dai uccido la sostruzione rock polish che cos'è cosa fa ok ma c'entro pokemon nella prossima città dai coso vabbè cambiamo pokemon perchè no certo e no perchè non era io ho dato il mio numero sono un coglione puoi rompere il cazzo pure io ho dato il mio numero sbagliato ma tu dove sei sono di fianco alla grotta e allora io ho finito anche le pozioni te lo dico la situazione qua è tragica si quasi ce n'ho due entriamo in grotta o no? aspetta io sto ancora prendendo il mio pokemon al percorso 31 vabbè però hai rotto il coglione ma sei privata tanti escono a te ma che cazzo donna mia raga cioè minchia c'è un abbonamento con questi cazzo di topi di merda dai che io non c'ho più neanche come cazzo far andare i colpi di questo qua no vabbè io non c'ho è un incompetente raga è un incompetente è tutta mia no vabbè no io la lascio perdere cioè a me ci sono 50 pokemon diversi a te escono i pokemon più rari a me escono solo quelli easy no? non lo vuoi un bello zubat è per quello che non volevo farlo andare vabbè vabbè però uno zubat adesso ci sarebbe anche lì qua si no non si trasforma in robot già no? no adesso metto lui per primo e ragazzi non so cosa fare trovo soltanto quelli che già e qua sicuramente può uscirci può uscirci qualcos'altro mi è stato detto che non devo più fare Rage con Totodile perché fa cagare e neanche la mossa di terra con Geodude perché fa cagare Sasha sei ancora trovando topi di merda? sì io ci rinuncio allora raga io vado in grotta chissà ne frega vediamo cosa troviamo Dark Cave va bene ma posso entrarci? sa non è che mi stanno a morire? no non vedi niente però intanto in salata sale di livello ma io non volevo farla salire troppo di livello quello è il problema allora poi io vado a farmare i pokemon cioè scusatemi è quello che ho detto di fare io sono stronzi i miei pokemon non ho capito dai porca troia no c'è anche Spinarak questo è il livello 4 posso rischiare Minchio che è il livello 3 vai Minchio vai Minchio quale devo usare? quale devo usare? poi su String Minchio sta già a morire se mi muore Minchio no aspetta che lui non c'era ancora il pokemon di sta zona fermi tutti se mi muore Minchio ucciderò sto stronzo volevo ucciderci Minchio anche Minchio ha preso dei punti vabbè devo andare un po' indietro mi sa raga per allenare Minchio perché livello 3 aspettate un attimo mi sono già persa ve lo dico si non mi interessa ma qua sono la città dove c'è il pokemon center vero? oh la mail si è fatto giorno magicamente ecco come è successo boh? chi lo sa? si è persa ok io sto andando a curare i pokemon intanto sto tornando indietro per allenare Minchio è diverso ah hai trovato un cesso hai trovato wow niente ma avevo trovato qualcosa beh cattura qualcosa quello lì è l'amico di Minchio? che magia hai visto? no hai visto Samu che magia è diventato giorno no non voglio ristorare i pokemon ho già fatto grazie ho detto di non ucciderlo con un'azione ma non dovrei ucciderlo lui mi ha avvelenato il fio di troia però alleniamo Minchio ragazzi alleniamo Minchio mentre lui perde tempo perché perde tempo sai che se io uccido tu devi liberare Spinarak? no non voglio liberare Minchio lo sto allenando come una cosa che non fa danno eh lo so appunto non voglio liberare troppo fa cagare sto po' comunque voglio adesso ok quindi Widol è l'amico del mio Minchio vai Minchio a livello qua non ho fatto aspetta adesso allenando Minchio non so perché non si toglie più state sto cazzo sì che voglio cambiargli il nome chi vuole essere Widol? che culo ma io non gli do il nome di pokemon di merda non dai loro nomi al pokemon di merda che culo che hai allora Odri il tuo Spinarak e Coleottero e DeDev controvolante o tutto è considerato volante quella cosa è considerato volante? non è un po' quindi è volante ma a sto livello tecnicamente dovrebbe avere soltanto azione e growl quindi non ha mosse volanti ma devi far caso anche a queste cose Odri adesso sto allenando Minchio cioè chi è che vuole essere Widol ragazzi che diventerà un bel bitri semmai ci arriverà a essere un bel bitri dai Minchio su se no lo chiamo Plug lo chiamo Anal Plug se non volete lo chiamalo Plug il prossimo lo chiami Anal al massimo bravo Minchio è arrivato a livello 5 il mio Minchio bravo Minchio io non ho trovato un Rattata ragazzi faccio notare ah sì quello che ho ucciso ok Plug si scrive con la U vero? sei serio? sì te lo sto chiedendo sì che si scrive con la U io non l'ho mai scritto l'ho sempre preso no quelle Plug no poi che anima che anima innocente che sei poi adesso cos'è successo che c'è sta barra qua? a lei raga ah si è sminchiato tutto si è sminchiato tra parentesi fai un attimo che sta sminchiando fortissimo Sasha non capisco perché c'è oh è andata via finalmente ok deve essere tornato normale bravo Minchio no era il plug quello da mettere no non era piaga era ma tu sei già andata nella grotta davvero? no sto allenando Minchio che sta per morire tra parentesi Minchio o uccidi questo oppure siamo finiti eh non io dovrei andare di là oh abbiamo rischiato ok ah maiali adesso trovo un basement figlio di troia Minchio a livello 6 tranquilli Minchio a livello 6 se vi stavate preoccupando Minchio a livello 6 però a parte i miei pokemon che sembra che sia sotto anfetamina e maestro switchiamolo con palla una palla me lo sono proprio dimenticato e vabbè ho trovato anche un Lady ma puoi ma puoi il primo pokemon che incontro cos'è? no il miglior pokemon d'erba è oddish ragazzi io ho tanti di quegli oddish al centro nei box allora io adesso torno su ok torno alla caverna oh ciao torniamo alla caverna torniamo alla caverna come si torna la caverna di qua Sasha quindi ti aspetto davanti alla caverna? io sto andando a curare i pokemon già fatto quello sei già andato in città? sì ho anche portato Minchio a livello 6 possiamo allenare palla? forse sono sicura questa cosa però fate fare la cattura in grotta prima Sasha perché? no no non l'ha fatta veramente l'ha fatta ragazzi non l'ho fatta l'hanno fatta i bastardi non l'ho fatta brava palla oh nice e palla va a livello 6 a posto perfetto palla poi tornate affanculo tanto io trovo Zubat lo sapete ah non è ancora andato in grotta ok sto aspettando te oh guarda questo è devastato ho solo una pozione devo comprare pozioni eh già devo tornare in città e torniamo in città veloce veloce sto arrivando di là tanto cerco di allenare un pochino lui è ovvio che devo prendere Zubat chi volete che mi capiti guarda per l'amore della pace ragazzi vado subito io dai vediamo che ti esce dai se mi esce no qua può uscire Machok se non mi ricordo male giusto magari mi sono persa di nuovo ma come cazzo è così allora prima curiamo i pokémon di nuovo geodude al 2 cazzo che vuoi rompire palle ah io ho un geodude quindi la grotta che come come che livello è che cosa la chiamo grotta non si chiama no 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 cancer cancer no figlio di puttana massimo a post stop siamo poveri adesso non grittare per favore dio porco non abbiamo un pokémon nella grotta ciao grotta bravo bravo complimenti MVP Sasha grande è pure inutile che ci entro nella grotta bravo grotta sti cazzi colpa Sasha avete voluto mandare lui avanti no lo so che non serve però non lo voglio di sprecare pokeball perché non lo voglio di sprecare soldi avete voluto mandare lui avanti perché pensavate che la cazzata la facessi io eccoci bravi complimenti bravi 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 sulla coscienza ci avrete materiale per shorts è vero non ci voglio credere ma intanto fai tanto questo posso ucciderlo alleno alleno un attimino quelli che ho sì sì adesso diciamo così sulla coscienza ci avrete la coscienza quindi io nella grotta non c'entro neanche perché tanto è inutile che c'entra vabbè se lo chiamo è skill vero? allora se lo chiami è skill non mi ricordo se c'eri quando ho iniziato a fare competitivo con Pugli con Semen che lo vedi in chat che è il mio professore di sostegno sì a questo punto sì ti ha mandato lui in agro per primo a questo punto sì e praticamente non mi va bene niente in competitivo a parte gli idropompa quelli mi entrano blind così come puzza hai salito di livello puzza così cazzo meglio la stream che la partita non vero scusate che bastardo ma tu alle 9 che cosa dovevi controllare scusa la partita ah così all'undicesimo erano già 2 a 0 ste figli di puttana Sasha prova ad alzarlo io ragazzi non lo so perché il suo microfono oggi è bassissimo riesco ad alzarmi che il mio microfono è basso ti ho alzato io ti ho alzato io stai fermo intercampioni d'Europa attenzione qualcuno giro il dito nella piaga sa comunque il tuo microfono ha qualcosa che non va perché perché prima ti si sentiva benissimo poi sei ritornato bassissimo anyway anyway io che cazzo devo fare fuori sta grotta ormai niente vado avanti niente torna indietro come torna indietro c'è nel senso torna il pg anche pg 8 è uno dei miei preferiti è uno dei miei primi stai a poco veramente io faccio una strage allora io sono alla grotta qui torna alla città dove hai curato i pokemon va bene do coglioni cioè o livella un po' o ci droppiamo un attimo gli facciamo fare qualche livellino così non perdiamo tempo sì faccio fare i livelli ai pokemon dai pokemon minchio palla chi dei due palla dai palla da quando è che palla c'ha il poison scusate ho un pokemon poisonato devo sapere l'antidoto cioè devo puoi spiegare l'antidoto mi ricordo se in sto pokemon mentre cammini ti va giù gli hp no forse no perché sarebbe già morto non l'avrei manco saputo non so un po' come stavo messo a livello 4 puzzo no ma che cosa si fallisce ah maestro andiamo maestro da qua quant'è che aveva di ciao fabio ciao fabio come vai in quella della cermania beh oh ciro sarà il 5 buono bravo ciro ciro però minchio no aspetta c'è un problema niente quale sarebbe questo problema sta morendo minchio aspetta cambialo io ti devo dire di cambiare un po' ho cambiato l'ho cambiato non è più morto minchio come febbre e morte ancora cioè ancora quanto ne hai ancora ha deciso che eri già malato no scusi mi può un attimo curare sto minchio per favore come lo tiro giù come lo tiro fuori i pokemon lo picchiano tantissimo 38 e 7 minchia altissima tica dai minchio andiamo ad allenarci mesco minchio davide hai visto che Sasha ha killato la run ma tua sorella ha killato la run ma comunque mi ha messo il pokemon in inglese mi ha messo bravo minchio bravissimo minchio ma mi sento come una porchetta eh beh quello posso capire immagino su telegram hai messo le clip grande grazie lorid sei fotonico allora e niente la situazione è questa minchio è imbattibile ma se mi crittano me lo uccidono ma noi non faremo caso a questo ma sta morendo dai minchio non possiamo farci uccidere una rattata a livello 2 dai basta usare le cazzo di pozioni mi ha stato detto che posso lui dice basta usare le cazzo di pozioni non basta cioè non so con che tono l'ha detto non lo so neanche io perché le stai sprecando ah ok era basta era basta nel senso di non usare più e sono anche povera ormai già nel gioco come nella vita vera ma guardate quando i giochi diventano così così realistici ma che chi l'ha dove va la grotta che ci sono oggetti invece ho capito dai potevo andare ma stascia mi ha detto di tornare qua perché dovevi curare i pokemon ah ok e quindi adesso devo tornare su ok devo tornare su domanda ho sbagliato e allenati l'erba dopo la grotta ok vai micchio no lei non ha capito che c'ha il centro pokemon accanto secondo me ma dov'è sto centro pokemon adesso se vada la grotta il centro pokemon dov'è? no a sinistra della grotta c'è il pokemon center ci sei andata 20 volte ma non è vero la grotta ragazzi ma è la stessa grotta di cui stiamo parlando una grotta c'è fino al mo oh ma sto cazzo di uttut di livello 4 quanto cazzo duri nei meglio mortacci tua? oh ok Ciro è salito al 6 quindi noi siamo a posto con Ciro per ora ero Ciro no non mi ricordo più chi è che volevo far salire di livello ah no ma Ciro è Weedle? no Ciro è perché è un topo ok comunque merda mi la posso a sterba in belli dov'è sto pokemon center? vatemi vedere ma è tutto a sinistra cosa stai facendo? no no Ciro mi muore eh Ciro si c'è minchio mi muore no 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 non voglio che mi muoia minchio vai distruggilo bravissimo la posso ma ragà tutta sinistra mi è mandata un'altra route non ti mandi in un'altra route ti mandi in una città dove c'è un pokemon center ma stai prima non eri andata lì no c'è un tizio che mi sta parlando adesso c'è un tizio c'è un tizio è sempre lei ah vai a Let's City oh ma pensate io ogni volta tornavo alla città prima la roba la roba non ti aiutai c'è un tizio che c'è un tanto che c'è un tanto sì ma esco ecco grazie andiamo avanti va che tanto non allenare puzzo non serve spacca roccia aspetta lo cambio di livello con la prima palestra però dovrebbe essere intorno forse prima 13 tu a che livello ce l'hai puzzo puzzo e al livello 11 ma che l'ho scritto è scritto già l'ha scritto sapete su che c'è il cap del poche center vero ma avete la torre da fare con la torre qual è la torre io non so un cazzo quindi capirai questa è la torre per voi ma c'è la torre sprout casa tu mi devo qualcosa se ti parlo qualcosa se ti parlo no poraci in alto nella città poi a nanna ma che ci sono le dieci notte franchi notte franchi fai il bravo cosa è quello ok niente che si può sarco ma da fare delle cose cosa questo è lato ah eccola qua sono davanti alla sprota per poi venire per favore possiamo fare le cose cioè e qua dentro si fa qualcosa stai facendo casino io non ho ucciso il pokemon nella grotta e tu l'hai ucciso nel percorso 30 non lo sapevo che era cambiato il percorso quello nella nella tower possiamo catturarlo il primo sì non fa parte un'altra route questa chiedo per sicurezza perché l'ultima volta non è andata bene sai che non so ah perché nella tower ok aspetto sasha o comincio ad andare avanti io ci ho capito che era sprattato però sei calmo mettiamo puzzo avanti mettiamo puzzo vai puzzo fai andare lui se non muori puoi catturarlo facciamo andare un'altra volta lui siamo sicuri che ucciderà il pokemon può essere che glielo faccia ok ci sono pure possibilità che questo accada sta davvero dicendo salvataggio di molti dati in corso ah ma devo salvare si fammi salvare si 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 salva sempre suo stesso ciccio vada quante raga partono le scommesse ok quanti di voi pensano che sasha ucciderà il pokemon nella tower ma io non mi ricordo che si incontrano i popimon qua dentro io entro intanto ciao che devo fare qua fuori salve signora salve c'è un oggetto lì come c'è arrivo davete a cazzo oh merda vai no ma c'ho la faccia di uno che vuole come chi devo usare contro un pokemon erba a parte fuoco vada sti cazzi non è irrilevante io ho trovato un pokemon che è un rattata quindi no io mi sto scontrando con uno quindi non glielo posso catturare me lo picchio in culo ma c'ha solo sti pokemon questo vabbè dai mandiamo minchio dai minchio forza minchio credo in te boh subito ho preso un ceffone in faccia minchio io troverò solo rattata qua immagino besprat, rattata e ghastly io sto trovando solo rattata finora io besprat l'ho trovato ma mi sto scontrata con un monaco sholin qua allora quelli che incontri contro il monaco si immaginavo tanto li posso scatturare no però signore non mi cagli il cazzo però c'è un vecchio che sta a prendere con un bambino adesso perderò i miei primi pokemon sappiatelo no no sasha sasha no io mi sono affezionata mi sono affezionata ai miei pokemon ma puzzo è una macchina da guerra cioè aspetta un attimo mandiamo un maestro mi ero dimenticato che qua attacco rapido era sgravo grande maestro no forse si hai ragione che ghastly non ho rattata io non mi è mai capitato un rattata cioè si è uno ma l'ho ucciso oddio questo vorrà scontrarsi pure questo che ansia no non mi ha cagato ok io che è che ho no no volevo prendere l'oggetto persona di merda oh mi sta facendo male oh non ho pozioni posso usare la pozione ma io voglio ghastly perché vuoi curarti e ritorni qua non te lo vieta nessuno no perché poi non so come rifare sta strada ma qua io pokemon non ne trovo perché so stronza io chi cazzo si ricorda di rifare sta strada ah tra l'altro il mio rattata ha fuga facile come abilità tra l'altro è una strada dritta ma come fa se è una strada dritta a tutte scale cristo dio togli toto dal davanti magari è debole ad erba oh ok che ci metto minchio minchio che è stata tutto così vai minchio andiamo oh ho trovato un pokemon ho trovato ghastly yeee grazie meglio chi deve usare ragazzi aiuto minchio puzzo palla maestro perché non posso prenderlo perché non può prenderlo lui ha ucciso rattata ma è normale perché lui rattata ce l'aveva già no ma lei prende il primo pokemon che incontra che può libero e io prendo il primo pokemon che posso prendere no io non ho ucciso rattata sono fuggito da rattata sì ma in teoria se ce l'hai già devi prendere quello dopo c'ho le rusco davanti ragazzi e anche fosse rattata se già ce l'ho lo uccido però non li uccido semplicemente per non livellare troppo ma con quanti accessori esce odrigo ogni sera ha una capigliatura diversa ma dio madonna ci sono due pokemon nella torre eh poi io non ti sto capendo ah dalle regole che abbiamo trovato noi sì però dalle regole che abbiamo trovato noi se lui ha già il pokemon il primo che bebbe che è quello dopo eh e non può catturarlo ok deve arrivare a catturare se non cattura eh dipende tu non puoi catturare niente in sta torre quindi no ho messo notte ho messo la notte perché non possiamo catturare non c'è nulla di questa di questa regola qua poi lo liberi non preoccuparti tu catturalo al massimo poi lo liberi non vuoi non vuoi tu inizia a fare la tua cattura aspetta speriamo di non morirci fermate tutti eh ci ho paralizzato questo a posto grande puzzo entra tu perché la situazione è tragica hai rotto i coglioni però casli dio caro sti sti frame ma quanto cazzo dorme c'ha un hp gasli ci sono di notte e io non so se sono di noto o di giorno qua no se all'erario del computer ah ok allora io sono la tower oppeso ghastly che chiameremo e forse dovremmo liberare puzzetto no no petino puzzetto tu lo chiami puzzetto tu lo chiami puzzetto tu e mi chiami petino non gli faccio un cazzo petino il mio quello di sasha non si sa perché ah sei contro gasli forse dovremmo liberare il nostro gasli oh dio mio joy che vuoi chi è che mi chiama chi è cos'è ma secondo te ti voglio parlare io ma anche mi sa che non avremo un gasli e non avremo un pokemon nella torre dai barco però ovviamente azione non ha effetto vabbè ma te ma dici che lo ammazzi si eh si ho tutti attacchi che lo ammazzano non so cosa fare io non ho capito cosa vuol dire perché ho capelli diversi Kurt no domani vado dalla parrucchiera Kurt sei è messato un momento basta che scelgono ora se seguire quella regola no meglio decidere all'inizio sarebbe no allora noi Samu tanto mentre lui continua a litigare per gasli noi abbiamo praticamente trovato la regola che se hai già quel pokemon cioè lo ammazzi passi avanti e il primo pokemon vale il primo che non hai se in tutta la zona ovviamente tu trovi solo pokemon che hai sei fottuto e ciao quello si allora quindi come si chiama il tuo petino no il mio è petino ah no vabbè si l'ho asciugato un po' più no te l'ho rid ma perché ieri non erano lisci io mi ricordo come sono i miei capelli devo andare a vedere i mod per sapere come si no te l'ho rid non so come chiamarlo vabbè è stato invece mi ricordo come c'erano i capelli ieri zozzi quello sicuro perché ho fatto lo shampoo gli da un nome per piacere perché c'è un po' sto a tre ore qua aspetta ah tu è peto ok perfetto vedi guarda come siamo già linkati guarda nightmare nightmare vabbè dobbiamo linkarli sai allora quindi abbiamo peto e petino possiamo andarcene arrivederci no no dobbiamo arrivare come si dice mincio alvelenani qualcuno però c'è impegnati un po' non dobbiamo non so cosa non so perché intanto ok e manca un pezzo di torre infatti il mio problema è che devo curare i pokemon assolutamente se non ci voglio torno giù anche se le pozioni vabbè io torno giù porca madosca ghastly minchio contro ghastly no facciamo così raga puzzo è beli video ma perché dormi buon dio oh a cagare va a posto e oppure ogni tanto si muore ci mi cagli nel cazzo quello prima non me l'aveva cagato ok vado a curare i pokemon dai che palle manca un pezzo di torre ma in teoria se io faccio gli scontri all'interno della torre livellano i tuoi va bene ok però una volta che li ho scontrati quelli non mi devono più cagare il cazzo infatti ti lasciano un numero perché hanno a certa iniziano a chiamarti e dicono vuoi venire a risfidarmi che ho fatto diventare i miei pokemon più abili ma anche no questo che cos'è entriamo andiamo a vedere cos'è no 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 salve avrei bisogno di pozioni grazie 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 molto gentile ben gentile tanto la povertà arrivederci ciao ciao e siamo nella merda perché ok sotto alla città adesso andiamo a vedere vuoi evitare di far morire i pokemon per fuori cioè plug qual'è weedle plug e weedle no dai mi sono affezionata pure minchio mi sono affezionata non uccidermi minchio non andare lì non andare lì Sasha perché ti scontrano tutti lì Sasha ti scontrano quindi stiamo andando nella torre andiamo su sì ma io ho curato i pokemon anch'io vabbè ok non sapevo se cioè non sono tornato giù va bene ora si va orco cane a 6 eh vale quale pokemon siamo per libera uuuuuh c'è scaldi merda ma tu non hai weedle io non ho weedle però è spinarack sì ma che spinarack è resistente capito a chi a erba perché con le otteroll questo non ci fa un cazzo eh puzzo entra in campo per farlo uccidere un attimo questo è erba aspetta che non mi ricordo sveglia ti mannaggia il tuo dio ah ciao ah no non dirmi che è a gastro mi c'è forte contro questo qua non mi ricordo se è il veleno che è resistente perché qua non mi ricordo se hanno messo il doppio tipo non mi ricordo un cazzo non ho guardato le stasi si dovrebbero aver messo il doppio tipo vabbè si minchio ce l'ha fatta bravo minchio si è tutti noi livello 9 per minchio grande mi sto affezionando a minchio non far succedere niente a minchio come si passa a dire adesso ok così o no ah c'è Helmut si sta evolvendo plug ma come a me mi sembra ma che è quel cosa che cazzo no oggetto merda no 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 c'è poco vai puzzo vai distruggi puzzo dai no no c'è riuscito bravo puzzo allora ragazzi qua c'è un piccolo problema dove devo andare adesso? devo andare col vecchio? è rimasto un veleno a spina è solo 9 hp merda merda fortissimo due affrostata per forza maestro maestro no maestro non morire maestro non morire no 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 non mi fido via meno male ragazzi cosa devo forghettare? cosa sto imparando? no aspetta dimmi fai forgot? no aspetta cosa che impara? bite orso è buio mettigliela a posto di rage davide mi ha detto che rage fa cacare non mi ricordo rabbia cosa faccia proviamo subito bite è vero che non è molto efficace su di lui ma che cazzo meno si ma puzzo è arrivato a livello 13 raga e non allenarlo più basta e vabbè intanto finisco la lotta con lui perché sennò vabbè quindi praticamente io ho finito la torre ciao oh c'è il flash per illuminare la caverna sapete che non mi ricordo cosa fa sintesi? qualcuno di voi si ricorda cosa fa sintesi? che altro perché? minchio dai ce la puoi fare credo in te ah qua si può fare così chi la usa recupera PS il numero di PS recuperati dipende dalle condizioni atmosferiche quindi se c'è il sole diciamo se c'è maestro però mi sa che ci muove io lo metterò al posto di dark è inutile contro di lui è vero? si si curi curi si sa mai che serva non so se dai puccio svegliati ok voglio uscire da questa torre di merda siamo al posto di rugito ok andiamo a curare i pokemon mentre lui non so che fa non so che cazzo sta facendo poi c'è la no non andare là ah no tu stai tornando indietro io ho finito la tower no c'è anche il tizio poi il vecchio l'ho già ucciso no c'è se tu vai avanti c'è il tizio che pede i rossi vai avanti dove che non c'era più niente oltre la colonna odri adesso vabbè torno indietro anch'io perché non voglio disprecare altre pozioni e quindi torno indietro anch'io no andiamo dove ha detto Sabo porca Giuda ma che sei scemo andiamo sotto la città dov'è di qua no 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 palesemente no non è qui di qua si eh che ho fatto se torniamo c'è la sfida contro il tizio eh l'unica cosa è che tu non puoi più allenare Totoday no ci becca non so se farlo o no cioè adesso tutti i gas li trovo no ci becca no non cominciamo questa discussione che succede ogni sera odio si ha fatto tutto nella torre eh non hai battuto non ha battuto il tizio con i capelli rossi ma non devi battere il tizio con i capelli rossi se ne va il tizio con i capelli rossi ah se ne va non ti sfida no no litighi col vecchio gli dai due botte in faccia al vecchio non picchiamo i vecchi normalmente nella vita giuro ma davvero se ne va allora non potevi dirmelo subito che se ne andava sono due ore che ti ho detto finito è un'altra ore si ma ho finito non vuol dire se ne va pensavo non l'avessi visto ma questo se ne è andato davvero dopo che io ho detto che non mi ricordavo di avere i capelli lisci su becca dove vai con la cesta dei giochi eh Matt ma Pugli se ne è andato dove è andato Pugli? dove è il maestro Pugli? sono nella route 32 Sasha mi stai accendendo i coglioni Audrey ma io che vuoi ho finito io non me lo riporto sto gioco se no capirei che sono la cazzo di cane non me lo so non l'ho mai saputo sicura che non mi sfida? no se ne va litiga col vecchio il vecchio gli dice sei troppo inesperto giovane Anakin e quindi lo manda via si è buttato dalla finestra dopo il palo ma tu stai guardando la partita solo per rompere il cazzo a lui? non capito giusto? ci becca sta mangiando qualcosa alle mie spalle dopo scopriremo che cos'è fammi vedere ok ok puoi mangiarla ci becca è lui non so se si riesce a vedere no non si vede è lui ci becca? no non ti voglio rubare il gioco madonna mia dai vieni qua lascia 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 dov'è il gioco? ci becca è lui ci becca ma come ragazzi lei ha fatto tutto ho parlato col vecchio ma ha sfidato eh io l'ho sfidato il vecchio ma è del messiere questo ma in che lingua ci becca in che lingua sto parlando? non mi fare brutto un altro avuto come hai fatto prima perché ti giuro vai 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 scusami non ti disso proprio lui è ci becca o anche chubi perché si gira solamente si chiama i chubi praticamente cioè non si gira mai si gira solo quando vuole lui ma generalmente risponde al chubi beh aspetto a catturare il pokemon nella route 32 perché poi quindi da me notte date giorno e dovrebbe essere così non si deve dormire Sasha non far morire sin cambia quel pokemon subito mi sono affezionata a puzzo Sasha sali ti chiamo a morte che vuoi tu? non te la sai più da solo? mamma mia si a me tutti i giochi minchia che palle comunque ragazzi cioè si è capito chi è la chi è la regina indiscussa qui ciao procedere oh guarda sa mamma mia litigavamo sto vivendo con l'ansia questa cosa no ma io non voglio perdere puzzo cioè ma è vero che devo mettere puzzo in sala non posso più allenare in sala no non posso più allenare insalata cos'è lo prendo frana? no la cosa che ti fa se la metti a un pokemon c'è il flash vedi ah flash no frana vabbè ragazzi io direi che manca una palestra abbiamo fatto c'è sotto la città prendiamo il pokemon la route 32 quanto cazzo mi toglare adesso mi toglare aspetta bravo che pokemon mettiamo qua avanti non posso più allenare lui minchio maestro maestro eh sì dai mi è andato di culo ragazzi no rattata non ti succede mai lui è psico volante vero? ah tada no ho tutto ah ok comunque non sappiamo perché a sasha non va più veloce il gioco come succede a me ah è normale volante? eh infatti io se voglio fuggire dai pokemon c'è c'ho devo ricordarmi che ora è trattata che ha fuga facile e non è male come abilità anzi allora sa adesso tu curerai i pokemon e va bene si sto andando proprio di corsa ok dopodiché no eh dopodiché andiamo giù se adesso non essere incazzato perché sono più sgrava di te cioè non è che adesso sto andando poi andiamo giù prossimo e catturiamo il pokemon nella route 32 ci serve il sesto tra l'altro io non capisco perché sono ancora di sera io cos'è sta storia che posso incontrare in questa zona che voi sappiate no non ditemelo ci arriverò da sola odri giusto perché tu lo sappia le mosse acqua e erba fanno quattro volte i danno a geodood e allora cambiamo geodood mettiamo amicchio no perché qua saranno tutti erba qui c'è mare no 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 ok non mi fido di quello lì ma poi dovete anche un attimo consigliarci se è meglio che usiamo tutte e due il giorno perché sono entrata in casa di una io senti sono cinque ore che ti sto aspettando cioè sono come un fidanzato che aspetta la ragazza sotto casa che ha detto mezz'ora fa che stava scendendo per favore e con te condivido la partita IVA per piacere scendi giù basta quello a soffrire oh mare non ricordo come si scrive c'è la pecora cos'è? qui c'è Marie ok ma io più giù di così non posso andare ma no lì dai cioè ragazzi non è del mestiere proprio questo guarda io non me lo ricordo ci ho giocato vent'anni fa ma io non so neanche il gioco c'è dai su guarda dove sono io ha trovato la strada ok aspetta qualcosina mi ricordo non tutto ancora e dieci minuti che ti ho detto che tra cinque minuti scendo ok quindi noi qua possiamo catturare sì però non so se andare passare dal vecchio qua che ci sfiderà sicuramente o buttarmi in quell'erba lì perché mi sa di erba sfigata quelle capito dove c'è un po' di roba così guarda che ha trovato un serpettello ma mi butto pure in questa erba vediamo cosa trovo whoopi che carino come faccio a non ucciderlo? ah ma io è inutile perché ho già messo il gioco a velocità supersonica quindi già la mia corre ragazzi come faccio a non ucciderlo? cioè non voglio ucciderlo a prescindere soprattutto perché poi devo spiegare al mio collega che ha ucciso il poca non usare mosse erba per il resto è abbastanza duro lui beh lui non ha mosse erba preso Ekans a lui è veleno puro ok diamo un soprannome come lo chiamo Ekans? io devo andare a prendere delle pokeball assolutamente stai calmo eh tu ok 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 bas 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 bag pokeball yeeeh io li prendo tutti al primo colpo quindi allora lui come lo chiamiamo? sei carino sei carino come ti chiamiamo? è una serpe quindi potrei chiamarla Audrey ma che faccia di merda lui è carino lo chiamiamo Frankie anche se è andato via spondilo spondilo mi piace ma così lo chiamiamo Frankie ok allora il mio è Frankie il tuo si chiama? spondilo me la me la spondilo sa di spondilo me l'ha suggerito la o dov'è? sa non uccidere nessun pokemon mi sono affezionata troppissimo ho appena preso Ekans si vabbè però ma è femmina eeeh vabbè è femmina ma cosa vuol dire? cioè nel senso ma la mia è femmina oh aspetta devo andare vedi vedi che c'è il veleno? la mia seconda sono avvelenati ok eeeh qua ci vedo ok allora eeeh ma i miei sono avvelenati no? ma i miei sono stanno apposto Frankie un po' così magari lo curiamo dai andamogli una botta Frankie eh avrei potuto chiamarlo a specchio hai ragione anche tu olid no ps olid no è bello ok andiamo a sfidare sto vecchio di merda dai è che non ce lo sapevo stai qua a romper cazzo con la tua cazzo di che ma non mi fa passare sei andata alla gym alla gym you can test your pokemon ah ragà la gym era quella lì dove me ne sono scappata allora se vado di qua invece cosa c'è? vediamo adesso noi non andiamo subito alla gym noi livelliamo un attimino i pokemon vero Audrey? si aspetta che hai smicchiato un attimo su discord devo un attimo rimettere ora si si ma la faccio io non ti preoccupa ok dove li alleniamo i pokemon scusami? nell'erba qual'erba? questa qui che c'è qui o dobbiamo andare in un'altra erba più leggera? qua fai più punti qua rischio anche di ucciderli quindi non so questo tanto non ci sfida ci dice soltanto che dobbiamo andare alla palestra frankie è forte contro rattata anche se è una femmina ma voi non dite la frankie vi prego ti prego ci trovo grande frankie voglio andare secondo me ad allenare dove sono un po' più scarsini non voglio uccidere i miei pochi soffrire troppo frankie è libera no come frankie è libera che ha ucciso minchia è sorrattata mi capitano comunque posso dirlo minchio fa schifo come pokemon chi è minchio? quello lì no rasalburi spinarak no spinarak diventa più forte eh diventerà anche forte la frankie passa primo però sei un po' io c'ho paura che mi muoiano i pokemon ragazzi sto usando un botto di pozioni ma c'ho paura che mi muoiano i pokemon fortissimo ok mi sa che dobbiamo si il ragno vai fortissimo cosa? mi sa mi sa che se va tutto male dobbiamo dire addio a un pokemon no sasha vabbè ma se è frank sti cazzi cioè è l'unico che mi sta sul cazzo dei miei pokemon quindi potrei anche accettare di dirgli addio frankie attenzione frankie attenzione fortissimo frankie il ragno ma rip via subito tanto non la puoi catturare il mio problema era un altro che barrile elettro è il nostro amico caro amico dai quanto dormi mannaggia il tuo simbolo del del demonio non sali di livello sto cazzo di frankie 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 sei scelta forse di mia foto frankie obliteralo non morire frankie frankie ho paura ho paura via frankie trovo frankie si ma levo frankie ho paura che mi muoia frankie tanto la tata non è erba vero la tata è normale a posto vai minchia allora tu a che livello ce li hai i pokemon perché al massimo la prossima volta comunque ci ci organizziamo per non stare a farmare un po' troppo troppo troppissimo perché poi diventerà veramente lungo farmare perché anche loro si annoiano ci droppiamo delle caramelle rare magari se intanto pugni da regolamento si può soprattutto se lo fa in stream gli facciamo fare qualche livellino ovviamente non esageriamo i pokemon selvatici continuiamo a a combatterle tutto se tu sei d'accordo se tanto hai parlato arabo per me quindi si le caramelle rare praticamente ogni caramella rara che dai a un pokemon sale di un livello ok è perché veramente senza condivido esperienza ci mettiamo ok si ragazzi voi non avete idea che casino abbiamo fatto oggi per cercare di fare una cosa che però poi abbiamo scoperto non si può fare vabbè poi siamo noi che sicuramente non abbiamo capito come però ma quindi adesso che dobbiamo fare scusami io sto livellando ancora un pochino e qui ovviamente la palestra è erba vero? ovviamente lui non dovrebbe avere tono shock al 6 dimmi che non ce l'ha per favore no flying pokemon questo c'è i pokemon volanti the elegant master of flying pokemon dai frankie andiamo dai frankie forzo allenati frankie dai frankie hop 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 oh frankie versus frankie ok bad sport fa cagare vero? ma che cazzo faccio con questo ehm sì ma io Petro Pettino non l'ho allenato proprio no lui è proviamo minchio ma no c'è anche opif qua è vero durerà mille anni questo scontro stai calmo tu non posso usarlo vabbè posso manda in campo ucciderò non rispondo al telefono non rispondo a nessuno un call center mi sta chiamando io non vendermi qualcosa in potenza indebolisce le vostre elettro acquiemune sotto il piercing scusate salve ciao 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 non so se mettere cheer o plug mi sono persa sa però mi devi di che devo fa io adesso abbiamo per forza sta cosa qua è vero che lui c'ha soltanto quello minchio contro i volanti ti esplode invece frankie contro è acqua quindi contro elettro mi esplode quanti turni dura vuoi il gibotta cinque frankie debole ad erba 4 per solo ad erba si facciamo di imparare beccata al posto di allora permette di colpire un tipo spettro con tutti i tipi di mosse ignora l'aumento di illusione del nemico servirà adesso ehi quelle otteri sono di carta il problema è che adesso dobbiamo farmare un pochino ragazzi e siamo sempre a rischio perché comunque sia un crit ci si incula qua metti che abbiamo un filo di vita in meno e ci crittano come ho come ho crettato io in grotta scusate che io ogni tanto guardo quanto sta il milano aria eccomi allora contro un sacco di roba ti esplode ma povero minchio frankie debole solo ad erba quindi non le devo usare qua 4 per ecco le otto di sole eh ho capito ma qua c'è tutto erba no o non ci ho capito un cazzo io della zona perché è cosa molto probabile sì ma io non so che devo fare allora odry io ti dico i pokemon che ho praticamente che c'ho eh ho tutto al 9 eh frankie sarebbe franca flag che è Kakuna no ma io ce n'ho due una al 6 una al 4 una al 7 fermate il problema è che c'ho peto che è ghastly e spondilo che sono al io ce n'ho ghastly 3-4 eh bravo io ce n'ho petino a 4 forse è meglio allenarlo qua petino non lo so e tecnicamente eh peto è meglio allenarlo nella torre eh ma sono fortissimi nella torre qua mi sembra che fosse tipo una merda non mi ricordo vai petino vai eh il prossimo bene andate benissimo e facciamo un cazzo ok perché fai schifo? vabbè bravo petino vabbè petino lo alleno qua dai allora ricorda che peto ammune alle mosse di tipo normale rattata che mosse ha? normale perfetto a posto grande sono nell'erba aspetta che succede? io non posso fargli un cazzo a rattata perché? è la mossa l'unica mossa che ho non gli fa nulla che non so che mosse ha il tuo è leak si sa che non so se no io me lo dice proprio che cambio pokemon? ma va volevo allenare questo vabbè mettiamo palla ah c'ha ipnosi e leccata non dovrebbe essere i normali sono immuni a spettro ripetino e salito al 5 però se lo uso contro questo cosa è questo? però lui ci fa male mi fa male? non tantissimo ma abbastanza palla contro questo perché vedi se qua noi avessimo avuto le caramelle rare gliene davamo qualcuna davamo a battere la palestra è tanto inutile stare qua a continuare a battere cioè per farti capire che non è città era una certa perché in altri pokemon c'è il condividi che cazzo no siamo di nuovo la situazione di prima ne faccio un cazzo Ale palla entra in game no palla torno dentro proviamo Fanky mi fa un cazzo mi sta morendo Fanky sta volendo Fanky no 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 maestro vai tu no ti viene una sbarra addormentalo eh minchia però eh ma se incontro la lattata per me è inutile qua l'ho velenato finalmente non gli faccio tanto ma almeno l'ho velenato te come sei messa? sono forte contro i coleotteri e con cosa? con il petino prova ah a me dormi petino chi è che è ghastly? si no non sono fortissima però vabbè mi so che cazzo anch'io grazie ciao ciao grazie che fumo si Kaizo ma Soul Link giochiamo stiamo facendo la Soul Link lei non ha mai giocato a un Pokemon e quindi stiamo provando a fare questa cosa da oggi eh oggi non abbiamo le caramelle rare ma la prossima le avremo per snellire per sdendire un attimino di tutto perché sennò ci stiamo mettendo veramente troppo a farmare livelli ma Pugli ci ha detto come averle però Pugli poi è scomparso e quindi io sto giocando a SoulSilver e lei ovviamente ha ritrovato come comunque ci sta scritto quindi che dobbiamo fare a te piace l'è fatta la Kaizo l'è finita sono di molti che l'hanno abbandonata che conosco l'hanno abbandonata lanciando quasi il pc dalla finestra sa tu mi devi dire però mangiare l'anima devi meglio mortacci mia cosa dobbiamo fare? ma te l'ho detto venti volte cosa dobbiamo fare Odri adesso devo soltanto controllare un po' i pokemon io sono arrivato a Brock su 4red avevo l'arcana imperfetto cioè dobbiamo allenare i pokemon abbiamo passato tempo ad allenare i pokemon e avevi l'arcana imperfetto e catbeast e c'ho cuore alla ranna immagino perché se hai detto avevo l'hai detto con un po' di morte nel cuore magari hai l'impasto stiamo ad allenarlo qua se troviamo dei pokemon io devo andare un attimino a curare cioè non trovo più pokemon nella vita qua dentro ok poi è arrivato un terremoto da Magikarp ma stavi giocando la random la stavi giocando random o la stavi giocando straight ciao Samu buonanotte buonanotte notte ma non credo che faremo la palestra qui come la palestra io credo proprio che la faremo all'inizio di della prossima volta infatti che ore sono sono le 11 sì io direi che possiamo tirare i remi in barca tirare un attimino ricordo di salvare io poi non mi ricordo questo emulatore come si fa a salvare a fare i save state che servono non si sa mai anzi vediamo se mi ha fatto no cosa ho fatto niente scusa no non so come si faccia stavo facendo la kaizo Iron Man allora l'ho già sentita come si sa mai quella cosa che aveva fatto a fare marcello l'aveva finita forse bravo davide l'ha abbandonato ah save state has save state 1 slot 1 posso dire slot 1 non lo so file file save state con f1 sabi lo stato attuale così shift f1 ok aspetta io adesso però mi serve una cosa se passiamo un attimo in chatting perché passiamo in chatting vero allora visto che abbiamo fatto il save state io faccio un altro save state poi ce ne ho fatti 5 6 così no io faccio f2 perché provo a droppare le caramelle tanto ho visto che il minano ha perso quindi sono contentissimo mi serve la tua webcam però sa che ce l'hai? no non ce l'ho mi serve su discord posso toglierla da là? si si può toglierla da là sono passata in chatting normale ok io ce l'avevo qua la mia web se vi devo dire che io sappia dove sia Sasha non ho la più palle di te adesso qual è di questi qua no ma se dovrebbe essere questo allora usiamo des mume des mume puldi 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 tadaaa michi è enorme sei aspettato no non si chiama puldi come si chiama? samen samen si perchè sei così grosso? vabbè ti sterremo così grosso amen andiamo a fare lui è enorme io piccolina allora posso chiudere qua abbiamo salvato tutto a posto allora usiamo ah gliene hai già detto des mume tu sai come si fa a dropparsi le caramelle rare? perché facendolo in live come ti ho detto hai visto quanto è grande Sasha? ce l'abbiamo grandissimo di Sasha ciao 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 e allora Sasha è col volume più basso non so perché ma stasera il suo microfono praticamente sta stronzeggiando in maniera micidiale e io vi giuro l'ho alzato in tutti i modi aspetta un attimo che provo a staccarlo a riattaccarlo ecco adesso arriverà bomba ve lo dico basso la sentite quanto è arrivata bomba? certo che ci vediamo venerdì alle due e mezza puntuale su Discord che dobbiamo fare un po' di competitivo e quindi Pugli se ce la fai arriva alle due e mezza così ci organizziamo un attimo vediamo che squadra usare perché io mi sono allenato un pochino sulla squadra che hai buildato tu quella ve l'aurora bora e sinceramente l'ho vinta quasi tutte tranne due però ovviamente ho giocato in amichevole perché ho soltanto un account no no Audrey me l'ha detto lei me l'ha detto lei che ti avrebbe detto di arrivare a due e mezza Pugli perché di arrivare a due e mezza a l'una e mezza ho un appuntamento e dovrei finire per le due un quarto e quindi due e mezza solito due e mezza va benissimo e quindi adesso devo tenermi questa cosa salvata perché sono tutti poche non segnati qui non si vede benissimo guardate salva adesso Puzzo che va che si linka con insalatina Palla che si linka con Franca cheat caramel salva Giotto come l'avevo chiamato maestro che si linka con Ciro e poi abbiamo la route 30 non c'è pokemon perché notte GioGio notte GioGio e direi che praticamente a brevissimo andiamo anche noi io non vi nascondo che mi ha stancato tantissimo sta cosa sì sì perché devi ancora un attimo capire com'è com'è un po' tutto quindi stanca abbastanza io vi ricordo che domani non so cosa portiamo demonologist ah demonologist quindi dalle 20 alle 20 e 30 alle 23 e 30 demonologist mentre venerdì faremo il pomeriggio dalle 15 alle 18 competitivo pokemon su violetto no io cos'è che ho violetto scarlatto io sei tu che è violetto no no non mi ricordavo vabbè comunque con quelli nuovi andremo a fare un po' di competitivo con due o tre squadrette una che mi ha dato il mio maestro che mi sta insegnando quindi faremo l'altro maestro l'altro maestro perché il maestro supremo è il professore bravo lui è il professore più che il maestro e quindi andiamo a fare un po' di competitivo pokemon ragazzi ricordatevelo siateci 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 che così vi fate quattro risate perché io subisco un botto di crit veramente e poi non capisce quando Pui dice attacca a destra a sinistra lui poi mi confondo con destra a sinistra e l'occasione un attimo poi che è competitivo attenzione attenzione Mirai don hai? ma è vero stasera si è visto poco ma Saga è il nostro spacciatore di pokemon ufficiale è il nostro spacciatore di pokemon per il competitivo e quindi io direi che io gli appuntamenti che mi ricordo li ho detti ricordate Evelu che ci siamo domani si fa Smo Demonologist cerchiamo di diventare un filo più bravi su quel cazzo di gioco che facciamo alquanto cacare si e non non lo nascondiamo neanche no per niente ci tengo a precisare questa cosa ci tengo a sottolinearla facciamo cacare e vogliamo far cacare e anyway io direi che dopo questa stancantissima almeno per me Solink che però voglio portare avanti perché mi sta piacendo il fatto che sono molto più brava di Sasha polesemente no è più culo ma direi cazzate Adriana sono polesemente più brava di Sasha che adesso sta rosiccando usano questi mezzuzzi capito per per affossarmi quindi l'allenatrice campionessa in carica si ritira vincente per stasera non abbiamo ucciso ancora nessun Pokemon che mi ci sono affezionata tantissimo due in due percorsi che uno io e uno noi li abbiamo fatti fuori quindi uno uno palla al centro se muore palla mi sta bene tutti gli altri mi ci sono affezionata te lo dico va bene va bene vabbè Petino non lo so Petino non c'ho ancora tanto affetto però vabbè sai quindi bimbi domani alle 20 Demonologist proviamo a migliorare diventare sempre più bravi cioè non c'è un arco di miglioramento cerchiamo di cominciare quest'arco di miglioramento su questo gioco per essere dei demonologi migliori per questo mondo sì ci proviamo quantomeno quindi in tutto ciò ci vediamo domani vi aspettiamo numerosi vi aspettiamo carichi vi aspettiamo pronti e se mi ricordo spero di ricordarvi cambierò i sound alert così ci faranno cacare sotto sì io prevedo un massacro da chiaro sì io lo so di cosa stai parlando ma suppongo sia un capopalestra sì anche io che da me si chiamerà Claire comunque Kurt domani ti voglio in prima fila su Demonologist così ho deciso buonanotte bimbi e grazie per essere stati con noi notte ragazzi grazie mille a tutti per esserci stati a domani notte notte grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti